Papà, che succede? Papà, che hai? Un attentato a Giovanni. Grave. Hai detto che fino a che Giovanni era in vita tu non avevi nulla da temere. Doveva proseguire la stessa strada. Ma tu lo sai perché Modo l'ha chiesto di parlare con me? Perché lui sa che il prossimo morire sarò io. Io chiedi che saggio è veneno. Doveva combattere fino alla fine. Io credo che ogni cosa è collegata alle altre. Guarda quante stelle. Le contiamo così fermiamo il tempo. Questa sera in prima visione assoluta Mi sono accorto di dare lì lontano i miei figli. Ma mi sono reso conto che le voglio abituare all'idea del destacco. Tu sei una donna coraggiosa Agnese. Qualunque cosa succeda so che i nostri figli sono in buone mani.